Buonasera e benvenuti al Tg Sicilia, le principali notizie di oggi. Acqua a peso d'oro in piena crisi idrica. La regione siciliana dallo stop alla marina militare per i carichi con la nave Cisterna. Ogni viaggio costa 50.000 euro. Ad Agrigento intanto migliaia di cittadini scenderanno nuovamente in piazze esasperati per tutta l'acqua che si disperde per colpa di tubature fatiscenti. La nostra inchiesta nella piana di Catania a Castel di Iudica. Soffrire per la mancanza d'acqua sono gli animali. Colpito il comparto della produzione casearia. Inevitabile il calo della produzione di latte e formaggi e l'aumento dei prezzi. Emergenza rifiuti a Palermo. Via libera ai doppi turni ma i sindacati si dividono. Intanto in soccorso della RAP arrivano sette ditte private. Ma in molti quartieri l'emergenza è ancora a livelli estremi. Mare inquinato a Messina divieto di balneazione lungo due chilometri. Nella riviera nord più frequentata. A Marina di Priolo vicino a Siracusa inaugurata una spiaggia interamente attrezzata per i disabili. Catania ha aperto un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti tra Librino e San Giorgio. La differenziata si potrà portare nell'isola ecologica di Viale Biaggio Pecorino. Tale più cara a Catania, al Tg Sicilia il sindaco Trantino parla di strumentalizzazione. Ancora un nome eccellente nell'inchiesta della procura nissena su Cosa Nostra è a Palti. Indagato l'ex PM Pignatore. Scettico il commento di Felice Cavallaro del Corriere della Sera e la sconfitta di un'intera stagione antimafia. Musica, grande attesa a Catania per il concerto di De Gregoris, stasera alla Villa Bellini. Venerdì suonerà a Noto, sabato a Palermo. Il Palermo ha avviato oggi la campagna abbonamenti. Il Catania è impegnato sabato alle 18 in Coppa Italia contro la Carrarese. Domani ufficializzerà Guilmotti. Quattro acquisti per il Messina. Musica, grande attesa a Catania. Musica, grande attesa a Catania. Crisi idrica sono tantissimi comuni alle prese, con guasti alle condutture e che cercano di fronteggiare l'emergenza riparando tubi troppo vecchi che fanno disperdere l'acqua. A questo si aggiungono costi altissimi per reperire l'acqua. La Regione ha detto stop alla Marina Militare per la fornitura del porto di Licata. Adelaide Barbagall. L'acqua non si può pagare a peso d'oro. La Regione dà lo stop alla Marina Militare per i carichi con la nave Cisterna. Ogni viaggio costa circa 50.000 euro per una spesa pari a 43 euro a metro cubo, cifra troppo alta a fronte di un prezzo di mercato imposto a Sicilia Acqua pari a 69 centesimi al metro cubo. Ci saranno altre fonti di approvvigionamento per portare l'acqua al porto di Licata, assicura la Regione. Ad Agrigento intanto migliaia di cittadini nelle prossime ore scenderanno nuovamente in piazza, esasperati anche per tutta l'acqua che anziché arrivare nelle loro case si disperde per colpa di tubature fatiscenti e piene di buchi. Il guasto alla rete è nei pressi della via Gioeni. Decine di metri cubi d'acqua si sono riversati nelle caditoie fino alla sottostante piazza Aldomoro innanzi alla prefettura. Da un'emergenza all'altra, Palermo è corsa contro il tempo per riparare l'acquedotto scillato che ha lasciato di colpo a secco decine di comuni. È stato individuato il guasto, si è staccato un giunto da un grosso tubo. Gela soffrirà un po' meno la sete, Sicilia Acqua ha comunicato di aver ripristinato le forniture idriche ai serbatoi di Capo Soprano e Montelungo. Nelle prossime ore dunque verrà riavviata la distribuzione dell'acqua con la cadenza programmata. Per dare un po' di sollievo ai campi aridi di Ragusa, la regione ha disposto l'utilizzo delle acque dell'invaso Ragoleto ed anche in questo caso l'ordinanza è di carattere emergenziale. C'è una nota della protezione civile nazionale che replica alle parole di Cocina. Non condividiamo la natura e la forma del contenuto nel ringraziare la Marina Militare che come sempre si è resa immediatamente disponibile all'interno del Servizio Nazionale di Protezione Civile a mettere a disposizione le sue qualificate capacità di personale e mezzi per far fronte all'emergenza. Si evidenzia che nonostante gli eccezionali tempi di attivazione legati allo stato d'emergenza nella regione siciliana la Forza Armata ha semplicemente applicato le tabelle di onerosità previste dalla norma. E la crisi idrica non fa sconti neppure nel comparto caseario. Oggi siamo andati a Castel di Iudica nella zona attorno alla Piana di Catania. Le aziende zootecniche messe in ginocchio dalla mancanza d'acqua. Il rischio è la macellazione forzata del bestiame. L'inchiesta di Orazio Longo. Sembrano volerci dire abbiamo sete. Qui siamo a Castel di Iudica, attorno alla Piana di Catania. Dopo gli aglumetti e gli ulibetti ora tocca a loro alzare il grido di dolore. Ennesimo capitolo di una crisi idrica che non risparmia proprio nessuno. E questo è il loro pranzo. Quindi voi mettete la pianta di Fico d'India verde estirpata qua e le capre, le pecore... Le pecore se le mangiano, sì, probabilmente. E questo è l'unico alimento verde che quest'anno hanno mangiato, perché in mancanza di erba, l'unico alimento verde. Non ce la fanno più gli allevatori del comparto zootecnico, non ce la fanno più le capre, le pecore, le mucche, gli asini. Soffrono anche loro. Quello è l'unico appezzamento di ristoppi che è rimasto quest'anno. Dovevano rimanere i terreni tutti così. Invece è rimasto solo questo pezzetto e tutto quello che vedete attorno è tutto senza paglia. Manca l'acqua. Andando avanti così il rischio è la macellazione forzata. Se continuo così siamo costretti ad abbattere gli animali perché non abbiamo cosa dare da mangiare. Lo stop alla produzione di latte e formaggio o semplicemente un aumento esponenziale dei prezzi al dettaglio, se è vero come è vero che per abbeverare il bestiame bisogna procurarsi l'acqua dalle autobotti a 300 euro alla volta, che significa ogni due giorni. Ogni due giorni dobbiamo far arrivare un autobotte e provvedere per l'acqua per gli animali. Naturalmente non basta dire che è un'estate eccezionalmente calda e secca. Non basta neanche dire che ha piovuto poco d'inverno. Quello che si vorrebbe sentire è che si è avviato un programma serio di ristrutturazione della rete idrica, sempre più vecchia e malfunzionante. È un progetto di costruzione di impianti adeguati al 2024 per la raccolta e la distribuzione dell'acqua, senza dover aspettare l'estate più secca degli ultimi vent'anni, per delegare agli altri le responsabilità e fare spalluce. Stamattina un incendio è divampato a Misilmeri, Palermo, in un centro commerciale che si trova a lungo la Palermo Agrigento. Le fiamme sono partite dai contatori elettrici di un negozio. E due incendi nel giro di poche ore a Santa Margherita di Belice, 20 ettari di uliveti e vigneti distrutti in Contrada Dragonara. Si è reso necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco e della forestale. In Contrada Giaccheria, invece, le fiamme sono divampate su 13 ettari di proprietà comunale destinate ad ospitare la baraccopoli post-sisma del Belice, diventata negli ultimi anni una discarica abusiva di rifiuti speciali e solidi urbani. Dopo aver domato il vasto incendio, tutta l'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri. E parliamo dell'emergenza rifiuti a Palermo. I sindacati accettano i doppi turni di raccolta. La CGL è però contraria. Intanto in soccorso della RAP arrivano sette ditte private, ma in molti quartieri l'emergenza è ancora a livelli estremi. Marco Gullà. Nel delicato e surreale puzzle dell'emergenza rifiuti a Palermo un'altra tessera viene inserita, quella dei doppi turni. I sindacati della RAP hanno cambiato nuovamente idea e hanno dato il benestare ai turni in più per i lavoratori, che quindi potranno guadagnare di più, sfruttando lo straordinario, ma dovranno faticare maggiormente per ripulire la città. In un giorno abbiamo accumulato più di 2000 tonnellate di rifiuti che si aggiungono a quelli ancora da raccogliere, ha detto il presidente della RAP Giuseppe Todaro. Speriamo adesso, in una settimana, di riportare la situazione alla quasi normalità. La normalità sarà solo possibile nei prossimi mesi, ma tra i sindacati adesso è scontro aperto, con la Cigelle che continua a dirsi contraria ai doppi turni per affrontare l'emergenza e pensare al futuro. Una nota sindacale appunto della Cigelle è necessaria l'assunzione immediata dei 306 operatori ecologici vincitori del concorso e l'assorbimento di tutti i 46 autisti. E mentre i sindacati litigano la città, nonostante gli sforzi della RAP e di svariate ditte private, continua a versare in condizioni di grande precarietà. Molti quartieri, come Tommaso Natale, sono ancora invasi dalla spazzatura e, seppur di meno rispetto a qualche giorno fa, continuano anche i roghi di rifiuti. Un'emergenza ancestrale, che ormai è consuetudine per la città di Palermo. E per fortuna arrivano anche le belle notizie per Palermo. Nel 2025 il capoluogo siciliano sarà capitale italiana del volontariato. A deciderlo l'Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato Italiano. Mare inquinato a Messina di Vieto di Balneazione, su due chilometri di mare nella riviera nord più frequentata. Ed è di stamane il sequestro di un locale, Francesco Triocco. Due chilometri di mare sulla riviera nord messinese interdetti alla balneazione da una settimana dopo il divieto disposto dal Comune a seguito della segnalazione dell'Asp sulla presenza di batteri inquinanti. Il Comune ha inviato la sezione ambientale della Polizia Municipale per le verifiche di controlli e, dopo aver ottenuto anche i risultati delle analisi sul tratto di mare interessato suddiviso in semi-microzone, ha individuato la causa. Così questa mattina hanno provveduto al sequestro di una parte di un locale della zona, nello specifico dei bagni e dell'impianto di sollevamento delle acque reflue collegato agli stessi servizi igienici. Dalle verifiche dei tecnici di AMAM e della Polizia Municipale è emerso che la pompa di sollevamento e le acque reflue che avrebbe dovuto condurre gli scarichi verso la condotta fognaria non funzionava e così i liquidi finivano sulla spiaggia. È stato deciso quindi di sequestrare l'area e il verbale verrà trasmesso adesso all'azienda sanitaria che potrà quindi effettuare un nuovo campionamento della zona. Se i risultati dovesse restere nuovamente nella norma, potrà essere revocata l'ordinanza con il divieto di balneazione e quelle spiagge potranno tornare nella piena fruibilità dei messinesi e dei turisti. A Marina di Priolo, vicino a Siracusa, c'è una spiaggia interamente attrezzata per i disabili. Nessuna barriera architettonica e tutti al mare. Francesco Aloi. Al mare senza barriere. No, non è uno slogan, ma la realtà. Siamo a Marina di Priolo, a qualche chilometro da Siracusa. Qui il comune ha dedicato un tratto di spiaggia libera e diversamente abili. Sono ritornato in acqua a fare il bagno autonomamente e con gli operatori che ci assistano in qualsiasi movimento. Facendo un giro notiamo che l'inclusione è veramente di casa. Dieci le postazioni attrezzate, ombrelloni, lettini, passerelle e bagni. Tutto è pensato per chi è in sedia a rotelle. L'anno scorso abbiamo fatto una sperimentazione andata benissimo e l'abbiamo fatto per un mese e quest'anno abbiamo raddoppiato due mesi. È un'operazione che abbiamo fatto del tutto gratuitamente. Chi viene qui non è mai solo. C'è infatti un servizio di accoglienza con operatori qualificati. Qui siamo una grande famiglia, finalmente. Loro possono venire, possono stare con noi. Se vogliono entrare in acqua, noi siamo con loro, li aiutiamo. Possiamo stare con loro pure a parlare. È anche un modo per socializzare. Ma il mare deve essere accessibile sempre, qui come altrove. E secondo gli ultimi dati, sembra che su questo fronte la Sicilia stia facendo passi in avanti. 2014 numerano 10 spiagge accessibili in tutta la Sicilia. Siamo arrivati al 2024 con ben 194 spiagge accessibili, di cui 50% pubbliche e 50% private. A Catania è aperta la terza isola ecologica a Librino. Chi conferisce otterrà degli sgravi sull'Atari. Potrebbe risolvere anche il caso degli ingombranti abbandonati. È aperta infatti agli svuotacantine. Giusi Lazzara. A Precatania è la terza isola ecologica. Il centro comunale di raccolta in Viale Biaggio Pecorino a Librino servirà a tutta la città per conferire diversi tipi di rifiuti, comprese quelle frazioni che non vengono ritirate a domicilio. Così grandi quantità di imballaggi in vetro, plastica, cartone, farmaci scaduti, toner, elettrodomestici e mobili potranno essere smaltiti correttamente. Se per esempio hanno della plastica, devono partire, non possono aspettare la domenica sera per lasciarla fuori casa, possono venire a conferire qui ed è anche un'operazione vincente perché poi in questo modo si può avere anche uno sgravio dell'Atari. Un passo in avanti nella dolente raccolta di rifiuti gravata nelle ultime settimane anche dalla cenere vulcanica. Altra questione riguarda l'abbandono di ingombranti ai bordi delle strade. Nei centri comunali di raccolta sarà consentito lo scarico da parte anche degli svuotacantine in modo che così non saranno più costretti a lasciare tutto quanto nelle strade della città creando quella condizione di degradono da tutti. Il nuovo centro di raccolta si aggiunge a quelli di Via Gianni, Apicanello e Viale Tirreno a Trappeto Nord. Altre isole ecologiche sono previste nel piano generale da 5 milioni di euro. A breve apriranno altre strutture quasi già completate in Via Montenero, Via Forcile e Via San Filippo Neroi e Bagliasinni, una per ogni municipalità. Catania è polemica dopo l'approvazione sul documento di bilancio che prevede un possibile aumento dell'Atari. Non ci sta l'opposizione. Il sindaco Trantino è una strumentalizzazione politica. Aumentano i costi ma non per forza l'Atari. La questione Tari, la tassa sui rifiuti, al centro delle polemiche interne all'amministrazione comunale di Catania, l'approvazione del documento di assestamento di bilancio che prevede un aumento dei costi per 2,7 milioni di euro nei prossimi due anni proprio per il servizio di gestione dei rifiuti urbani fa salire la tensione all'interno del Consiglio Comunale. Gli extracosti graverebbero sui cittadini per l'aumento del già salato balzello, denuncia così l'opposizione che non ha votato il documento. L'opposizione ha ritenuto di non poter dare copertura ad una affermazione di questo genere lasciando così all'amministrazione e alla maggioranza la responsabilità di prevedere sia pure con scarsa probabilità l'aumento delle tariffe Tari. Di rimando il sindaco Trantino. È previsto un aumento dei costi ma non ha detto che debba per nulla essere poi compensato l'aumento dell'Atari. L'evasione che si attesta quasi la metà dei contribuenti pesando su chi paga regolarmente l'Atari. Perché non ti ammazzi così evito di farlo io? Ti voglio morta. È il contenuto inviato da un 24enne alla sua ex fidanzata che lo aveva lasciato. L'uomo dopo la denuncia della vittima è stato arrestato e posto ai domiciliari per atti persecutori dai carabinieri della stazione di Catania con l'obbligo del braccialetto elettronico. Non mi arrendo fin quando non la uccido, avrebbe inoltre detto il ragazzo a qualche conoscente. Il Collegio nazionale dei provitiri di Forza Italia ha deciso di congelare con effetto immediato la sospensione di 20 giorni decisa nei confronti dei deputati azzurri Eddi Tamayo e Ottavio Zacco, riservando ogni decisione all'esito dell'istruttoria. Dopo Natoli, un altro nome eccellente nell'inchiesta della procura nissena su Cosa Nostra è a Palti, indagato l'ex PM Pignatore, oggi presidente del Tribunale della città del Vaticano. Scettico il commento di Felice Cavallaro del Corriere della Sera, che segue da anni le indagini contro le cosche. Ascoltiamolo. Siamo alla sconfitta di un'intera stagione dell'antimafia. Indagare è un obbligo, ma temo che le inchieste che si stanno rovesciando su uomini come Gioacchino Natoli e adesso Giuseppe Pignatone siano destinate alla prescrizione. Tranne che non si voglia indagare per stragi, omicidi. Se si tratta di indagare sulle omissioni o sulle bobbine che c'erano o non c'erano, andiamo verso la prescrizione e quindi rischiamo di trovarci con le mani piene d'aria. I magistrati di Caltanissetta riusciranno a trovare il bandolo della matassa interrogando Pignatone o Natoli. Già si capisce come vanno le cose appena li interrogano. Si avvalgono della facoltà di non rispondere. E quindi l'amarezza diventa una gran pena. Il Tribunale di Palermo ha condannato a dieci anni di reclusione per voto di scambio politico mafioso l'ex deputato di Forza Italia Salvatore Ferrigno. Secondo l'accusa, l'esponente politico alle elezioni del 2022 avrebbe accettato la promessa del mafioso di Carini, Giuseppe Loduca, di procurargli i voti in cambio di soldi. Stessa condanna, dieci anni di reclusione ciascuno è stata combinata a Loduca e Loiaco. Ha cercato di impedire ai familiari di un paziente di entrare nell'area di emergenza come previsto dal regolamento. Per questo una guardia giurata in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo è stata aggredita. E' sempre a Palermo, i ladri sono entrati nel reparto di radioterapia dell'ospedale civico e hanno sbaliggiato gli armadietti dei dipendenti. E cambiamo argomento, un cantautore amato da tutti, dagli adulti ai più giovani, Francesco De Gregori, inizia dalla Villa Bellini il suo tour siciliano. Francesco Aloi. Ha fatto cantare ed emozionare generazioni di italiani e lo fa tutt'oggi. Sempre per sempre, allo stesso palco. Chi lo definisce principe, chi poeta. Sì, perché le sue non sono semplici canzoni ritmate, ma delle vere e proprie poesie, che non si fermano ad una stagione, ma durano una vita intera. Generale, dietro la collina, ci sta la notte, trucca e assassina. La sua generale è una delle più amate. Provate a canticchiarla ad un ragazzo. Quasi sicuramente si unirà. Una breve pausa, tra poco parliamo di sport, non mancate. Bentornati al Tg Sicilia. Più di 24 ore dall'oro conquistato, con la squadra di spada femminile, la catanese Rossella Fiammingo rivive le sue emozioni, le sue parole ai nostri microfoni da Parigi. Le ha raccolte Marco Carli. Non ho dormito, è vero, solo due ore. Però il peso di questa medaglia si sente. È una medaglia importantissima, super cercata, sognata, immaginata. E adesso ce l'ho a fare le mie mani. Le emozioni delle ore immediatamente seguenti alla vittoria sono ancora vive. Si passa dalla grande gioia alla considerazione dell'impresa fatta. Rossella Fiammingo, campionessa olimpica con la squadra di spada femminile, rivive così, nel video di Fedescherma, il grande successo, condividendolo a Casa Italia con le compagne e con un campione come lei. È una giornata epica, ma come stavo commentando con Daniele Garozzo, non è che non ce l'aspettavamo, perché noi sapevamo che era nelle nostre corde, ma poi non sapevamo, sappiamo com'è la scherma, se veramente poi saremmo arrivati a giocarci loro, perché eravamo forti, ma anche tante altre squadre sono forti come noi. E mentre la compagna, l'altre tre, Alberta Santuccio, annuncia il suo matrimonio a ottobre, Rossella, che con il suo fidanzato Greg Paltrinieri ha vissuto una serata di grandi emozioni, con le medaglie di colore diverso finite al collo di entrambi, promette di rispondere ai complimenti di tutti i suoi fan. Io sono famosa per non rispondere, ma mi metterò seduta in questi giorni di vacanza e risponderò a tutti. Il Palermo ha avviato oggi la campagna abbonamenti, il Catania è impegnato sabato alle 18 in Coppa Italia contro la Carrarese, domani ufficializzerà a Guglielmotti, quattro acquisti invece per il Palermo. Mentre il Palermo ha aperto la vendita libera della campagna abbonamenti con l'obiettivo di superare le 12.603 tessere sottoscritte nella scorsa stagione, il direttore sportivo De Sanctis lavora per il completamento dell'organico. Con la Juve c'è un dialogo su tre nomi, Nicolussi, Caviglia che però vorrebbe rimanere in A, Barbieri e Asa. Per Apois invece l'inserimento di Barley e Young Boys potrebbe essere significativo in termini economici e cambiare la destinazione dell'esterno francese all'alba delle visite mediche. A queste ultime si è sottoposto in giornata con esito positivo il neo rossazzurro Davide Guglielmotti, laterale destro di 30 anni dell'Ecco, con un passato tra Reggiana, 60 presenze e 8 reti, e Renate, 80 gare e 11 gol. Il suo arrivo, prossimo ad essere ufficializzato, potrebbe aprire alla partenza di Bois. Sabato esordio del Catania in Coppa Italia a Chiavari contro la Carrarese. Sembra tornare d'attualità la trattativa con Ciccio De Rose, ma la priorità sono due colpi in attacco, con Gomez favorito e a seguire Montalto, Merola e Corazza. L'Escano invece, a lungo tra i desideri del Catania, sembra destinato al Trapani, che ha presentato una super offerta alla Triestina e al Calciatore. Quattro acquisti over per il Messina, Damiano Lia, Vincenzo Garofalo, Antonio Marino e Luca Petrungaro, ma il deficit strutturale e tecnico rimane di proporzioni ampie, così come il rapporto definitivamente compromesso tra la tifoseria e Sciotto. E per questa edizione del TG Sicilia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per aver guardato il video.